Finisce in poesia nella terra di Giacomo Leopardi per il Pineto e domenica sarà derby playoff al Dei Marsi contro l'Avezzano di Giampaolo. Al Tubaldi di Recanati, la squadra dell'ex Amaolo, si impone 5-3 sulla Recanatese e blinda il quarto posto. Alessandrini sceglie il 4-3-1-2 con Olivieri in cabina di regia dietro le due punte Pera e Falomi. Leggero turnover per Amaolo nel 4-3-3, tornano Mazzocchetti tra i pali esposito a sinistra e con Tomassini non al top lasciato precauzionalmente a riposo, in avanti il tridente composto da Di Rocco, Gragnoli e Farias. Appena tre giri di lancette il risultato si sblocca. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Pera ben appostato sul secondo palo approfitta del caos in area e in sacca di testa per l'1-0 in favore dei padroni di casa. Immediato arriva però il pali del Fineto, che porta la firma di Gragnoli, autore di una gran botta dai 25 metri che lascia in pietrito Stefanelli. Le due formazioni giocano a viso aperto e danno vita ad una gara bella, avvincente e condita da ottime trame di gioco. Al decimo sulla percussione di esposito, Stefanelli ci mette letteralmente una mano, mentre due minuti più tardi Pepe in sacca di testa sul corner di Pezzotti, ma il direttore di gara a ciato ravvisa una scorrettezza in area e annulla la rete. Ma il Pineto spinge in avanti ed è solo questione di tempo. A ribaltare il risultato al ventitreesimo ci pensa Di Rocco, che raccoglie il cross dalla sinistra di Gragnoli e piazza il pallonetto alle spalle dell'estremo marchigiano. La partita è viva e gli ospiti rispondono colpo su colpo. Al ventiquattresimo il diagonale di Giaccaglia termina di pochissimo a lato, un minuto più tardi in mischia Falomi non ci arriva di un soffio. Ma la regola non stritta del calcio è sempre in agguato e al ventisettesimo Di Rocco è velocissimo sulla destra ad accentrarsi dopo una gran sdroppata e piazzare il diagonale che vale il tris e la doppietta personale per il giovane pescarete. La re canatese però non ci sta e alla mezz'ora accorcia le distanze. Marchetti fa il pari con Gragnoli, raccoglie l'invito di Olivieri e piazza il pallonetto alle spalle di Mazzocchetti. Gran gol per l'ex Savona. Nel finale di primo tempo Pera prova a riportare il risultato in parità facendo valere tutto il proprio tasso tecnico ma poi sbaglia leggermente la mira calibrando di poco sopra il 7. Il secondo tempo riprende sugli stessi ritmi elevati del primo. Al sesto Falomi fa le prove del gol, un gol che si concretizza al ventiquattresimo. Gran botta di Olivieri, respinge con i pugni Mazzocchetti, Giaccaglia raccoglie e mette il crostagliato per Falomi che riporta il risultato in parità. Tutto da rifare per la truppa di Amaolo che però non demorde in una gara che si fa sempre più entusiasmante e si riporta in avanti dopo appena tre minuti con il neoentrato Ciarcelluti che con una percussione delle sue scardina le maglie della difesa giallorossa e mette a segno il poker. Sul capovolgimento di fronte Marchetti sfiora l'incrocio dai 25 metri. È una gara senza esclusione di colpi e al 32esimo c'è spazio anche per il gol dell'ex quando Mariani raccoglie palla al limite dell'area e piazza la conclusione sotto l'incrocio per il 3-5. Nel finale c'è ancora tempo per il palo di Ciarcelluti che potrebbe valere la sesta rete e lo spunto di Senigallesi che termina di pochissimo a lato. Dopo tre minuti di recupero festa e applausi per tutti. La Re Canatese, nonostante la sconfitta, festeggia la salvezza davanti al pubblico di casa. Il Pineto, autore di un'ottima prestazione, lancia un messaggio all'Avezzano. Ora l'appuntamento più importante domenica prossima al Dei Marsi per un finale di stagione da protagonisti. Mister Alessandrini, è arrivata una sconfitta oggi però la Re Canatese ad onor di cronaca ha fatto la sua onesta e bellissima partita, ha giocato e ovviamente è festa un po' per tutti perché è arrivata questa salvezza e la state festeggiando davanti al vostro pubblico. Sì, siamo tutti quanti molto soddisfatti di quello che abbiamo ottenuto. Era un cammino difficile, un percorso lungo, impegnativo. Adesso oggi non fa testo perché giustamente i ragazzi dopo la vittoria di domenica probabilmente hanno mollato mentalmente. Non che oggi non si siano impegnati perché... Però insomma è stata una partita molto aperta da parte nostra, giocata senza la mentalità delle ultime partite, mentre per gli avversari che ancora devono disputare i play-off era più proiettato verso i play-off e di conseguenza la mentalità e la testa dovevano essere lì. Però insomma in questo momento mi sento in dovere di ringraziare veramente tutti quanti i giocatori perché sono stati eccezionali. Ottenere questo risultato è già stato detto da tantissime persone, non era facile perché... Non dimentichiamo che a dicembre eravamo o penultimi o terzultimi, poi penultimi con 10-12 punti, perciò insomma abbiamo fatto un cammino molto molto importante e un campionato difficile che anche l'ultima giornata ha fatto vedere insomma che... Sorpassi contro sorpassi. Sorpassi contro sorpassi e le ultime che magari hanno ottenuto risultati importanti, perciò non era facile come è avvenuto e di questo ne siamo soddisfatti. Vittoria dell'ex per mister Daniele Amaolo, una partita molto bella, blindato. Il quarto posto domenica prossima sarà play-off ad Avezzano. Sì, ci tenivamo in un modo particolare a chiudere in modo migliore e al di là al quarto e quinto posto i play-off già avevamo assicurati che una giornata d'anticipo e volevamo chiudere in bellezza e contro un'ottima squadra che il giorno di torno ha fatto cose stupende, quindi un organico importante, però anche noi stiamo in forma, in condizione e abbiamo fatto un'ottima gara, quindi un'ottima trame di gioco e abbiamo chiuso come volevo, con una vittoria e con una prestazione fatta di qualità anche di gioco e con golle belle, diciamo, finalità. Tra l'altro il Pineto è riuscito a portare a segno diversi giocatori, Cercelluti, Mariani, Di Rocco, insomma sono tutte armi all'arco di Amaolo per la partita di domenica prossima. Tra l'altro non c'era Tomassini oggi, ha qualche problema? Sì, ha lui e Orlando in qualche situazione di non perfette condizioni fisiche, quindi abbiamo preferito non rischiarli, però come ho detto in altre circostanze la squadra oggi ha un organico competitivo e l'hanno dimostrato chi entra dall'inizio e chi entra in partita in corsa, diciamo, quindi è stata sempre la nostra forza e anche oggi, nonostante abbiamo fatto riposare qualche giocatore, chi ha giocato si è fatto trovare pronto e ha dimostrato che il valore di questa squadra è importante e sono soddisfatto, penso che dovremmo essere tutti soddisfatti di quello che ha fatto questa squadra, soprattutto in queste dodici partite dove abbiamo fatto, mi sembra, otto vittorie, tre pareggi e una sconfitta incredibile con la Nero Stellati. Peccato però, è stato un episodio negativo che ci ha dato la forza per ripartire e a volte nei momenti difficili si vede il carattere di una squadra, questa squadra ha dimostrato di averlo con un finale, un ottimo finale di campionato e quindi siamo tutti soddisfatti di quello che abbiamo fatto.